Se vuoi realizzare un e-commerce oppure magari sei già nella fase di realizzazione sicuramente ti sarà venuto il dubbio del magazzino, quindi di come gestire il magazzino o comunque che il magazzino può essere oneroso. In questo caso ci sono dei servizi esterni che ti permettono di rendere più efficiente la gestione del magazzino e quindi di esternalizzare completamente questo tipo di variabile, quindi di esternalizzare completamente il magazzino, i tuoi prodotti e anche la gestione della logistica e delle spedizioni. Questo tipo di servizi vengono chiamati servizi di fulfillment, cioè servizi che ti permettono di gestire esternamente in outsourcing, cioè da terze parti, da fornitori terzi, che si occupano appunto per conto tuo di gestire la spedizione dei tuoi prodotti e anche gestire lo stoccaggio, quindi immagazzinare i tuoi prodotti quando li ricevi magari dai tuoi fornitori, dai tuoi produttori o anche dall'estero. Questo tipo di servizi sicuramente ti offre tantissimi vantaggi. Uno di questi vantaggi è sicuramente quello di poter esternalizzare il magazzino, quindi non dover più gestire tu la parte logistica, la parte di spedizioni e poterti focalizzare unicamente sulla parte di vendita e sulla parte strategica e le strategie di marketing. Oltre a questo vantaggio hai anche il vantaggio di trasformare i costi fissi di avere un magazzino in dei costi variabili, in costi variabili che sono dovuti al servizio che utilizzi in base alla quantità di merce che stai immagazzinando e anche in base alle vendite che stai avendo. C'è un altro vantaggio sicuramente molto importante che alcuni servizi di fulfillment ti permettono veramente di ottenere una distribuzione molto capillare sia in Italia che all'estero perché hanno una rete distributiva sia in Italia che all'estero, quindi ti permettono anche di raggiungere gli stati esteri e offrire delle spedizioni molto celeri anche all'estero. Ovviamente i servizi di fulfillment non hanno solo dei vantaggi ma hanno anche qualche svantaggio. Lo svantaggio è sicuramente la mancanza di controllo sulle spedizioni e soprattutto la qualità del servizio. La qualità del servizio dipende molto dal fornitore che utilizzi, quindi in questo caso sicuramente il rischio è quello di utilizzare un fornitore che magari non è adeguato e non ti fornisce il servizio con la qualità che desideri e quindi non fornisce il servizio al tuo cliente finale con la qualità che vorresti tu e con le personalizzazioni con i servizi che vorresti tu. Questo è molto importante, è un aspetto critico in qualsiasi business online e soprattutto nel caso degli e-commerce. La parte finale, quindi la parte delle spedizioni, deve essere gestita in maniera molto attenta e molto precisa e deve essere estremamente efficiente per poter anche ridurre i costi. Quindi è molto importante selezionare il fornitore più adeguato per il tuo servizio, per i tuoi prodotti e per il tuo mercato. Oltre a selezionare il fornitore sulla base della qualità dovrai anche valutare i costi. È molto importante fare una corretta analisi dei costi che andrai a sostenere e dei processi che dovrai mettere in atto per poter effettuare questa gestione. Quindi è molto importante sapere anche quali sono i tuoi margini, quali sono i costi esattamente delle spedizioni e anche quali sono i servizi aggiuntivi magari che il fornitore ti offre perché molti fornitori ti permetteranno anche di gestire completamente il servizio clienti da parte loro, quindi poterle esternalizzare e lasciare in outsourcing anche questa tipologia di servizio. L'esempio più noto di servizio di fulfillment, servizio di logistica, è sicuramente la logistica di Amazon, quindi Amazon FBA, Fulfillment by Amazon. Questo tipo di servizio ti permette di esternalizzare non solo le vendite su Amazon ma anche eventualmente di utilizzare la loro logistica anche per le vendite all'interno del tuo e-commerce. Quindi tu in quel caso potresti tranquillamente avere un unico magazzino appunto presso Amazon, utilizzare la loro logistica e anche il loro servizio clienti anche per le tue vendite sul tuo sito web. Altri servizi in Italia sono sicuramente Emotion, Logicon, PVS o DHL stesso che fornisce dei servizi di fulfillment. Come abbiamo detto quindi è molto importante comunque fare un'attenta analisi dei costi e capire se questo tipo di servizio fa al caso tuo e se va bene per te nella fase iniziale, magari non è detto che vada bene per te nella fase iniziale, può essere che magari vada meglio soprattutto nella fase successiva quando hai tante vendite. È molto importante anche sapere quali sono i servizi che il fornitore ti offre e la qualità di questo fornitore, la qualità del servizio che ti può garantire. Se ti è piaciuto questo video metti un mi piace e condividilo con i tuoi amici. Per rimanere sempre aggiornato iscriviti al nostro canale e se vuoi interagire con noi clicca sul pulsante che trovi qui sotto per iscriverti al nostro gruppo riservato. Ciao e al prossimo video!